Hi guys e benvenuti in questa nuova parte della Splay di Minecraft Dunque, siamo in questa caverna che ho scoperto la volta scorsa E semplicemente in questa parte la esploreremo e proveremo a trovare del diamante Visto che noi a casa ne abbiamo due pezzi E mi serve un altro pezzo di diamante per costruirmi il piccone di diamante Di conseguenza poi potremo andare nel nether E fare tutte quelle belle cose che puoi fare dopo che hai ottenuto un fottuto piccone di diamante Che noi ancora non abbiamo Intanto stavo per prendere fuoco Stupida lava muori, perfetto E è uscita la versione 1.4.2 di Minecraft E ovviamente ho aggiornato quindi Potremo incontrare qualche novità durante il let's play E le novità non sono poche in questo nuovo aggiornamento che hanno fatto Ok, ora che abbiamo rubato onestamente questo oro Possiamo andare avanti Lì c'è un bug, ok il bug si è risolto Qui c'è della redstone, prendiamola Non sia mai che qualcuno ci offre un milione di euro per un po' di redstone E noi non ce l'abbiamo Sarebbe veramente una cosa triste Piazziamo una torcia E qui c'è dell'ossidiana che non possiamo prendere Perché non abbiamo il fottuto piccone di diamante Che culo Non ci credo No Perfetto Questa cosa mi risparmia parecchi minuti di ricerche Che culo Ho trovato il diamante inizio parte Questa è davvero Ok, ho avuto la mia botta di culo giornaliera Adesso Non voglio rischiare che i miei diamanti finiscano nella lava Quindi tappiamo lì Ok Perfetto Prendiamoli E non sono neanche pochi Sono due, tre, quattro, cinque, sei Sono sei diamanti Fantastico Fantastico veramente No, cinque diamanti Dov'è il sesto? Eccolo lì Perfetto Sono sei diamanti E a questo punto direi che torniamo a casa Perché non ho nessuna voglia di rimanere qui a morire A rischiare di morire Ora che ho trovato i diamanti Quindi Cerchiamo una via di uscita Da questa grotta E se la cosa andrà per le lunghe Taglierò il video E quando sarò arrivato a casa Ci rivedremo O nei pressi di casa Non lo so Comunque per ora andiamo insieme E proviamo ad uscire insieme da questa grotta Ed ecco subito il comitato di benvenuto Perché loro hanno capito che Ho trovato i diamanti E ovviamente vogliono uccidermi Muori Ok Devi morire Allora scegli O muori O smetti di vivere A te la scelta Stupido scheletro Perfetto Sono d'accordo con te Allora Eccone un altro Che cos'è? I tre moschettieri Oh Muori Ok Sento anche degli zombie Ovviamente Questa grotta è piena di mob E siamo anche in hard Quindi Sarà dura uscire vivi da qua Qui c'è un vicolo cieco Che fortuna che abbiamo Sento anche dei ragni Ho sentito dei ragni Proviamo a Andare di qua Ok Quella è una miniera abbandonata Io so che nelle miniere abbandonate Ci stanno i ragni velenosi E ragni velenosi Uguale morte sicura Quindi preferirei Non attraversarle Andiamo di qua E lì c'è un creeper Signor creeper Lei è un ospite Totalmente indesiderato E deve morire assolutamente Immediatamente adesso Perfetto Allora qui c'è Qui si può salire? Sì Qua si può salire Vediamo un po' Perfetto No eccolo là Ecco il ragno velenoso del cazzo Io lo sapevo Lo sapevo No 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 Ok Il veleno non può ucciderti Però ti lascia a mezzo cuore Quindi cerchiamo di Trovare riparo Mettiamoci qui sotto Perché Ok Siamo rimasti a tre cuori Ehm Siamo rimasti a tre cuori Perché avevo la vita piena Però se avessi avuto meno vita Eccone un altro No Non è possibile Non è Ecco è Appunto Se avessi avuto meno vita Ecco sono a mezzo cuore E il veleno si ferma Perché il veleno non può ucciderti Allora io non voglio più rischiare Non voglio decisamente più rischiare Già ho rischiato troppo Quindi Direi che mi tappo qui dentro In un modo molto rozzo Rude Mi chiudo qui dentro E Faccio alla vecchia maniera Cioè Prendo Un muro E inizio a scavare verso l'alto Vi faccio pure vedere come Intanto mangiamo Ho rischiato addirittura Di perdere sei diamanti Per fortuna Il veleno non ti può uccidere Ok No Non voglio andare di qua Voglio salire Ok Riusciremo a tornare a casa Perché abbiamo la bussola Che indica Praticamente casa E io a questo punto farò così È l'unico modo Perché non posso rischiare di morire Con Con i ragni lì Ok Siamo sbucati da un'altra parte Ecco Oddio Ho attivato Ho attivato Ho premuto qualcosa No non è possibile Non è possibile Non voglio morire Non voglio morire Muori tu Avanti Ok Tipo mi ha Ho tipo rovesciato la tastiera Quando ho visto Quello scheletro Che Questa è una parte epica Comunque Oh Lì vedo una luce No la miniera Non voglio andare verso la miniera Non voglio andare verso la miniera Perché so che Che cos'è Un enderman Sì un enderman Un enderman Salve signore enderman Io non voglio Morire Io vengo in pace E non ho nessuna intenzione Di farmi uccidere Intanto Faccio altre torce Perché altrimenti Voi non vedete nulla Ok È una parte abbastanza Piena di suspense Almeno credo Ok Ecco l'enderman E se provassimo ad ucciderlo Vieni qui dai Vieni a morire Vieni Muori Muori Oddio l'ho ucciso Oh no 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 Via 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 Con te non voglio avere nulla a che fare Ok Questo strano suono Dovrebbe essere Una nuova aggiunta Perché con la nuova versione Hanno cambiato anche parecchi suoni Ok Io direi che Stiamo rischiando anche troppo Ma quell'enderman Non ha droppato un enderpearl Non ho controllato bene Perché c'era quel fottuto ragno di mezzo E intanto ci sta anche finendo la spada Ok Eccolo lì Il ragno No non ha droppato nulla Andiamo via Che è proprio l'ultima cosa che voglio avere a che fare con quei ragni velenosi Che sono tra i mob più pericolosi Perché ti lasciano a mezzo cuore e poi ti uccidono Ok proviamo a salire di qua Ok Fantastico Proprio Il posto ideale per morire Ok io direi che Adesso mi metto a scavare verso l'alto Finchè non esco Salve creeper Fantastico Proprio fanta Guarda lì No non è possibile Non è possibile No 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 Non torno vivo a casa Comunque Ok io mi metto qui Inizio a scavare verso l'alto E quando sono arrivato nei pressi di casa Riattacco il video Quindi perché non voglio Cioè Penso sia abbastanza noioso Vedermi scavare verso l'alto Per mille mila blocchi Quindi taglio il video qui E ci rivediamo Nei pressi di casa Ok guys Sono riuscito ad emergere Finalmente Non so dove mi trovo Però abbiamo con noi la bussola Che indica il punto Dove siamo nati Che è nei pressi di casa nostra Quindi A questo punto Mi incammino verso casa Taglio il video qua E ci rivediamo A casa Ok guys Siamo quasi tornati a casa Eccola laggiù Eccola laggiù Già la vedo Perfetto Ah che bello Siamo A casa Con i diamanti Ed ecco i nostri Due cani Uno due Ah no erano tre Uno stava qui sotto Perfetto Che soddisfazione Abbiamo trovato sei diamanti Quindi io direi di farci subito Immediatamente il piccone di diamante Ok E perché no Anche una spada di diamante Sì Perfetto Quindi qui Ci rimangono altri tre pezzi di diamante Per un altro eventuale piccone E a questo punto Dobbiamo andarci a prendere l'ossidiana Che si trova nella grotta qui vicino Quindi Intanto ci andiamo Poi magari chiudo la parte Che dire Sono molto soddisfatto di questa parte Ho rischiato di morire come un cretino Però Alla fine Sono riuscito a portare a casa i diamanti Ora Ecco qua che Mi stavo per suicidare Proviamo a scendere Possibilmente senza Buttarci Non come la parte scorsa Ultimamente sto rischiando di morire troppo spesso In troppe parti Ok Ok Mi sto facendo male lo stesso Ma chi se ne frega Allora Proviamo ad andare di qua Mi pare che l'ossidiana Era qua Da questa parte Questa era la prima grotta Che Una delle prime grotte Che abbiamo esplorato In questo Let's play Ok Scendiamo Mangiamo E proseguiamo Ok Sì Eccoli l'ossidiana Perfetto Ovviamente Non Chi è? No no Hai capito proprio male Tu non devi stare qui Devi morire Bravo Ok Insomma ecco Ah ecco una nuova giunta I pipistrelli Davvero molto carini Però mi sa che non droppano nulla Se li uccidiamo Infatti Comunque Se quest'acqua mi permette di Camminare Questa è l'ossidiana La raccoglierò Ovviamente a telecamere spente Se no ci vorrebbe Troppo tempo Ci vuole troppo tempo Direi che questa parte Si può concludere qui Se questo video Alquanto Stressante Vi è piaciuto Vi invito a lasciare un bel commento Qui sotto E un voto Un saluto da Johnny Nicor Ciao Ciao